Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni. Basta fare l'upload dei Falgerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. In questo periodo potrete ricevere PCB di ogni colore a 2 dollari ed uno sconto di 20 dollari sulle spese di spedizione del primo ordine. Ciao a tutti, scusate la confusione in laboratorio ma stanno arrivando un po' di riparazioni e certe le sto mandando via. Due notizie velocissime. La prima, questa maglietta di Futura Elettronica, notate Welcome to the Future, è uno dei gadget che volevo preparare per il giveaway dei 10.000 iscritti che ci sarà fra un pochino di tempo, diciamo circa un mese, un mese e mezzo. Bene, cominciamo col video di oggi. Ricevo questo pacco da Gregorio della provincia di Trento, è un lettore DVD, Gregorio è un appassionato di questi oggetti diciamo un po' vintage, ci dice che è guasto, andiamo a vedere di cosa si tratta e tentiamo la riparazione. Buona visione! Ecco all'interno della scatola, sotto questi giornali troviamo il nostro DVD player. Si tratta di un Philips modello DVD 612s, DVD player, CD player. Test numero 0, infilata la spina data corrente, se vado a spingere sul bottone di accensione, nessun segno di vita. Come sempre l'apertura è molto semplice, ci sono tre viti torx con la classica T10. Infatti ho messo del nastro su questo cacciavite perché alla fine è sempre questo. rimasto il coperchio, l'unità si presenta così. Abbiamo il cavo di alimentazione che arriva qua sul retro e va su questa scheda di power supply, che sarà poi l'oggetto probabilmente della nostra riparazione. Abbiamo altri circuiti stampati, quello che dà sul posteriore con tutti i connettori, la scheda di controllo digitale con la parte di decodifica sui DVD, il controllo del cassetto DVD e il PCB davanti per l'interfaccia utente e gestione pulsanti. Ci concentriamo sulla scheda power supply, per cui andiamo a rimuovere i connettori verso le altre schede e le viti di fissaggio. Per rimuovere la scheda dovremo anche schiacciare questi due cappucci di plastica, questo e questo, che la tengono ancorata verso il basso. Ecco la nostra scheda switching, che a colpo d'occhio sembra essere un convertitore di tipo flyback. Infatti sappiamo che per questo taglio di potenze abbastanza basso, fino diciamo ai 100-150 Watt, il flyback è la topologia un pochino più conveniente perché veramente minimizza il numero dei componenti. Se siete interessati al principio di funzionamento e a un progetto flyback da zero, potete guardare i video 400 e seguenti. Cominciando dal cavo di alimentazione a 220, notiamo il fusibile di protezione, condensatore in classe X2 di sicurezza, che realizza insieme a questa bobina di modo comune un po' di filtraggio per evitare che i disturbi dello switching rimontino in rete, un varistore per proteggere da sovratensioni. Dopodiché passiamo a un ponte di diodi realizzato con quattro diodi discreti e il condensatore elettrolitico di livellamento. Quindi fino a questo punto qua dovremo attenderci una tensione di circa 314 Volt continua, cioè la raddrizzata della tensione alternata di ingresso. La tensione continua viene poi affettata da questo interruttore di potenza, probabilmente sarà un mosfet, dopo andremo a vedere, il cui periodo di funzionamento e duty cycle in pvm viene deciso da questo integrato che è un pvm controller che andrà a regolare la frequenza e soprattutto il duty cycle di funzionamento di questo oggetto in modo da garantire le tensioni in uscita a seconda del carico e anche del valore della tensione d'ingresso. L'interruttore di potenza pilota quindi il nostro trasformatore del flyback che essendo un flyback si tratta piuttosto di bobine accoppiate perché sappiamo che il principio di funzionamento del flyback prevede che venga immessa energia sotto forma di campo magnetico su questo trasformatore e poi quando questo si spegne il trasformatore riversa l'energia sui secondari che provvedono a creare le tensioni di servizio. Questo trasformatore quindi realizza anche la barriera di isolamento separando la parte di alimentazione dei secondari dalla rete elettrica di primario. Qua ai secondari notiamo i diodi di raddrizzamento per le tensioni di servizio e i condensatori elettrolitici per il loro livellamento più qualche altro componente per evitare disturbi e stabilizzare la tensione. Da qui abbiamo i connettori da cui si prelevano poi le tensioni generate da questa scheda. La prima verifica che effettuiamo è se il fusibile è ancora integro per cui multimetro in modalità continuità. Andiamo a vedere se c'è continuità sul fusibile. No. Come prevedibile il fusibile è saltato quindi lo possiamo rimuovere. Se il fusibile è saltato significa che c'è stato un sovrassorbimento in corrente per cui andremo a verificare in questo stadio di ingresso come prima verifica se i diodi sono buoni e se per caso il mosfet visto che è il componente di potenza al primario è ancora buono o risulta casomai in cortocircuito. Cominciamo con la verifica dei diodi mettiamo quindi il multimetro in modalità aggiunzione e andiamo a vedere con il rosso sull'anodo e il nero sul catodo se i diodi sono buoni. Cominciando al primo 573 millivolt di soglia va bene anche questo va bene a questo punto giriamo i puntali anche il terzo diodo va bene vediamo l'ultimo ok il ponti dei diodi è correttamente funzionante. A questo punto andiamo a controllare l'interruttore di potenza che si trova ai capi della continua di 314 volt per cui dal lato saldature andiamo a riconoscere i tre pin di collegamento di questo interruttore e andiamo a vedere se sono in bassa impedenza. Il componente di potenza dovrebbe essere un mosfet quindi potrebbe essere il piedino di gate questo qua a destra drain quello centrale e source quello laterale. Se fosse così mi aspetterei che fra il source e il drain ci sia un diodo in antiparallelo tipico di questi somiconduttori per cui vado a mettere il nostro puntale rosso sul source puntale nero sul drain eccolo effettivamente c'è un diodo quindi se riusciamo a vedere il diodo sul canale fra drain e source molto probabilmente questo mosfet è ancora integro se si fosse rotto con il canale in cortocircuito avremmo visto un cortocircuito. Ora vediamo se il terminale di gate risulta isolato rispetto al drain e source per cui metto il positivo sul gate e vado a vedere fra gate e source ho un circuito aperto fra gate e drain ho un circuito aperto quindi questo mi fa pensare che il mosfet potrebbe essere buono o comunque non presenta dei corticircuiti lampanti oltre al mosfet anche l'integrato pvm controller che gestisce la tensione fra gate e source sembra avere un'alta impedenza per cui anche il pvm controller sembrerebbe andare bene ma è troppo presto per dirlo proseguiamo con l'analisi però vediamo ora quindi alla sostituzione del fusibile è un fusibile t quindi ritardato da 2 ampere e mezzo per cui lo possiamo sostituire con questo prima di fornire tensione vado a misurare col multimetro che impedenza vedo sul connettore di ingresso per essere sicuri che non abbia un cortocircuito o una bassa impedenza quindi mi metto in modalità ometro e vado a vedere fra i due punti 420 kilom equivalenti vedete che il valore sale è perché praticamente si sta caricando l'elettrolitico e quindi la nostra lettura di resistenza fatta dal multimetro ovviamente risente del condensatore che c'è a valle però diciamo che un'impedenza abbastanza alta per cui posso applicare tensione sul connettore di ingresso se è saltato il fusibile significa che comunque un problema c'è stato per cui preferisco alzare la tensione qua all'ingresso utilizzando il mio variac quindi andrò su piano piano con la tensione alternata tenendo sotto controllo la tensione al condensatore perché se ci fosse un guasto latente interverrebbe questo ci permette di non fare dei botti eclatanti con la 314 volt applicata direttamente sul condensatore qualora ci fosse ancora qualcosa di guasto questi sono i due reofori del condensatore è noto che è già stata messa a mano a questa parte infatti vedo che sembra quasi che il condensatore sia stato saldato tra l'altro vedo anche che lo spazio fra il questo reoforo e questo è molto ridotto per cui faccio un po di pulizia per evitare che magari eventuali bave non portano in corto questa zona per effettuare la misura della tensione continua saldo due reofori direttamente sul ponte di diodi ecco ovviamente sempre cautela quando fate queste cose perché stiamo lavorando con la tensione di rete per cui sempre molta attenzione a quello che si fa nel mio caso poi alimento con un variac che ha davanti un trasformatore di isolamento per cui comunque ha una separazione dalla rete elettrica e dalla terra metto il multimetro in tensione continua misuro 3,2 volt dovrebbe essere zero però sappiamo che c'è un piccolo residuo adesso vado su piano piano con la manopola del variac e vedo se riesco a raggiungere il livello massimo di 314 volt cioè la tensione continua raddrizzata della 230 saliamo piano piano 30 volt probabilmente ci sarà un livello di tensione che innesca il pvm controller adesso andiamo piano piano per vedere se per caso non salta di nuovo il fusibile 120 volt sembra tutto tranquillo nessun guasto o esplosione all'orizzonte 230 a questo punto arriviamo direttamente 320 direi che se sostiene quella sostiene anche tutta la tensione ok quindi sembrerebbe che non ci siano guasti lampanti perché riusciamo ad ottenere la nostra tensione raddrizzata sul condensatore adesso torniamo giù di tensione e sappiamo che potremo applicare la tensione di rete direttamente senza fare fuochi d'artificio attendiamo ovviamente che la tensione sul condensatore si scarichi fino a zero possiamo aiutarla con una resistenza per risparmiare un po di tempo adesso possiamo andare a vedere cosa combina il mosfet mi accorgo tra l'altro che sono indicate anche le lettere gate, drain e source e quindi è un mosfet come avevamo ipotizzato comunque la configurazione di pin abbastanza standard da partendo da sinistra a destra GDS per vedere cosa fa il mosfet possiamo saldare due reo forini fra il drain e il source e andare a vedere con l'oscilloscopio che tipo di forma d'onda c'è se questo oggetto è in switching oppure no posiziono le mie pinzette sui terminali drain e source e vado a vedere con l'oscilloscopio la forma d'onda qua ho lo zero qua ho la 300 volt continua vedete che ho delle commutazioni quindi qua il mosfet si accende perché la VDS va a zero quindi fra drain e source abbiamo lo zero poi ovviamente abbiamo anche dei picchi di sovratensione però si accende regolarmente a questi intervalli questa distanza è di circa 16.5 microsecondi per cui stiamo andando una frequenza di commutazione di circa 50 55 kilohertz quindi il mosfet sembra switchare ora andiamo a verificare sui secondari per cui andremo a vedere la tensione continua su questi tre elettrolitici direi che sono quelli più grossi e andiamo a vedere se si localizza una tensione continua che ci sembra essere adatta vediamo la tensione su questo elettrolitico di mezzo 2.2 volt una tensione un po strana su quest'altro gemellino qua abbiamo zero e quest'altro quello grosso zero quindi in realtà sembrerebbe che una parte del flyback funziona mentre questi altri due elettrolitici sono proprio a zero volt con il multimetro in modalità giunzione andiamo a vedere i di odia e secondari ovviamente abbiamo tolto tensione cominciamo da questo qua grande quindi anodo rosso qua ci dice sì una giunzione la trova proviamo a invertire corretto quindi ha trovato la giunzione in questo verso vediamo questo qua ci dice che è in corto però attenzione ricordiamoci che siamo con in parallelo il trasformatore per cui potrebbe vedere l'impedenza del trasformatore infatti qua non suona se lo polarizzo in inversa vediamo questo questo ci dà un corto vediamo dall'altra parte questo ci dà il corto anche dall'altra parte quindi sembra che la corrente scorra in inversa su il nostro diodo quindi sembrerebbe guasto questo diodo qui ho alzato un piedino del nostro diodo ripetiamo il test con il reoforo alzato è già è proprio in corto circuito il nostro diodo è un st by w 98 e quindi è un diodo ultra fast 3 ampere 200 volt di tensione inversa con un fast recovery time per cui un diodo molto veloce che serve appunto negli switching con un trr di soli 35 nanosecondi eccolo qua il nostro diodo come dicevamo trr quindi il tempo di reverse recovery quindi il tempo che impiega la giunzione a svuotare la sua capacità è di soli 35 nanosecondi per cui questo diodo è molto veloce cominciamo ora un po di caccia al tesoro nei cassetti per vedere se trovo un diodo con caratteristiche simili nella famiglia degli ultra fast in casa ho dei mur 480 e che sono dei diodi per 4 ampere 800 volt quindi un pochino più di tensione e sono comunque abbastanza rapidi infatti se vado a vedere il trr non è basso come quello che abbiamo trovato da 35 nano ma sono comunque 75 nano quindi credo che sia più che accettabile considerato che le frequenze di switching non sono elevatissime puliamo quindi i reofori per cui aggiungo un po di stagno e poi lo andiamo a rimuovere con la pompetta testiamo il nostro mur quindi se mettiamo col multimetro in modalità diodo se metto l'anodo col più e il catodo ecco la mia tensione di soglia 450 millivolt viceversa al contrario devo avere circuito aperto perché la giunzione blocca il passaggio di corrente in continua ecco il nostro nuovo diodo mur 480 e impostazione andiamo a verificare ora le tensioni diamo un'occhiata alle tensioni sempre sui condensatori cominciamo con questo condensatore 3.3 questa sembra una tensione nominale questa è una tensione di 4 volt però un po ballerina va su e giù e poi infine quella sul condensatore nella zona del diodo che abbiamo sostituito non è più zero però anche questa ha degli andamenti un po strani per vederci chiaro andiamo a posizionare le nostre due sondine e vediamo con l'oscilloscopio che aspetto ha questa tensione con una base tempi di 800 millisecondi 2 volt di visione vediamo che ha questo andamento qua quindi un plafond di circa 5 volt e poi con questo andamento vediamo che raggiunge anche un valore alto di circa 12 14 volt con questo strano ciclo voglio osservare anche la tensione continua prodotta da questo diodo di raddrizzamento quindi posiziono una sondina dell'oscilloscopio e andiamo a vedere che forma d'onda ha anche su questo secondario vedo questo strano andamento che invece di essere una bella tensione continua ho praticamente delle oscillazioni ho alzato il reoforo di questo diodo e vado a prendere sempre la tensione sul diodo che abbiamo sostituito l'effetto non cambia quindi sembra sempre che abbiamo questo effetto di oscillazione visto che abbiamo alzato un reoforo andiamo a vedere se il diodo è integro quindi da questa parte dovrei sentire il bip dell'aggiunzione ok e dall'altra invece circuito aperto ok quindi questo diodo sembra essere buono provo a isolare l'ultimo diodo che è quello del secondario di ricontrollo infatti riconosco un tl 431 che concorre insieme al foto isolatore a creare il circuito di feedback per il nostro pvm controller quindi alzando questo mi aspetto che non ci sia più nessun anello di ricontrollo e la tensione che mi dovrei ritrovare sul secondario in esame dovrebbe essere non controllata in effetti su questo secondario vediamo che abbiamo addirittura fino a 16 volt perché il nostro pvm controller non è controllato e quindi abbiamo il massimo della tensione su questo secondario riflettendoci l'andamento di tensione che abbiamo visto a gradino può essere anche normale perché siamo a vuoto in pratica il flyback crea un gradino di tensione di circa 5 volt poi non essendo caricata l'uscita questa qua tende ad alzarsi al suo massimo possibile a questo punto il circuito di feedback del nostro flyback rileva una tensione troppo elevata e spegne il controllore ecco che quindi potrebbe essere corretto avere questo andamento a gradino quindi a questo punto possiamo riconnettere i connettori all'unità dvd effettuare la prova a carico semplicemente accendendo l'oggetto attenzione momento della verità diamo la 220 se visto movimento sul carrello accendiamo il bottone di power up display ragazzi ci siamo direi che è tutto nuovamente operativo infatti se abbiamo la scritta sul display in questa maniera significa che è partita la logica e quindi le alimentazioni interne sono nuovamente ristabilite diamo ora un'occhiata alle tensioni mentre il dvd player è in funzione e quindi inseriremo anche un disco di modo che gli assorbimenti saranno superiori siccome la meccanica dovrà far girare il disco teniamo sotto controllo ad esempio la 15 volt che è quella in cui abbiamo sostituito il diodo diamo la tensione 220 ecco lo switching parte vediamo che effettivamente questa volta abbiamo la 15 volt che è abbastanza regolare accendo il lettore ok vediamo che comunque rimane più o meno sempre su un livello di 15 volt stabile apriamo il terrello inseriamo un disco vediamo che la tensione tutto sommato rimane stabile adesso in fase di lettura ma vediamo che tutto è stabile diamo un'occhiata ora secondaria 5 volt quindi accendiamo il lettore ecco il transitorio verticale tensione stabile accendiamo sempre lettore dvd lettura tensione stabile questa è la tensione a 3,3 volt notiamo qualche piccolo disturbino ma tutto sommato è stabile facciamo anche pulizia del gruppo dvd perché dopo un po di anni potrebbe esserci accumulata della polvere e quindi con un po di aria compressa andiamo a togliere eventuali accumuli di polvere poi con un cotton fiocca imbevuto di alcol isolpropilico si può pulire l'ottica in maniera molto delicata cercando di non lasciare residui di nessun genere il cotton fiocca deve essere prima di essere imbevuto bisogna controllare che non ci sia del residuo sopra strofinare bene e lasciare asciugare l'alcol isolpropilico evapora senza lasciare tracce e quindi dovrebbe pulire bene l'ottica e come sempre facciamo ora l'autopsia di quello che potrebbe essere accaduto dunque abbiamo trovato il fusibile interrotto per cui se questo fusibile si è bruciato significa che è stata richiamata troppa corrente dal circuito a valle abbiamo esaminato il circuito e abbiamo trovato il guasto su questo diodo e in pratica è andato in corto circuito quindi il fatto di avere un corto circuito a questo livello fa in modo che sul flyback venga richiamata troppa corrente e questo può far intervenire il fusibile se il pwm controller non spegne in tempo il mosfet in fase di switching questo diodo potrebbe essersi rotto perché le meccaniche che sono a valle potrebbero aver avuto magari una durezza o qualche difficoltà che hanno a loro volta creato un sovra assorbimento in grado di rompere questo diodo questo diodo ricordiamo che era un by w 98 200 ed è un diodo in grado di portare 3 ampere ma la cosa importante è che deve essere ultra fast un diodo molto veloce cioè a scaricare la propria capacità parassita cioè una volta che non è più attraversato da corrente la ricombinazione delle cariche deve avvenire in maniera molto veloce questo per permettere poi al flyback di lavorare la frequenza di switching per cui è stato pensato abbiamo quindi sostituito questo diodo con un mur 480 che è assolutamente equivalente forse un pelino più lento ma ancora in grado di commutare abbastanza velocemente se si fosse scelto invece un diodo lento ordinario il flyback molto probabilmente andava in protezione perché in pratica il diodo non riusciva a spegnersi abbastanza velocemente e dal punto di vista del mosfet e del pvm controller è come se ci fosse un cortocircuito anche questa volta comunque per identificare il guasto abbiamo proceduto dall'inizio andando a cercare piano piano il nostro guasto è stato importante all'inizio alimentare il nostro oggetto una volta risostituito il fusibile lentamente perché se fosse stato presente un altro guasto a questo livello avremmo potuto ripetere il problema e avere nuovamente il fusibile interrotto e con questo termina il video di questa sera come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao